Tempi, ti prende zia, dai che mamma non c'era. Mettilo sulla sedia dietro. Vieni qua, sali sulla sedia, sali sulla sedia qua, non ti preoccupare. Eccoli, guarda. Ma ti fanno il saluto militare, faranno. Sono venuta a salutare la casa di papà. Hai visto a zia? Ho venuto a salutare a papà. Mamma, avete promesso. Hai ragione zia, hai ragione. Si stanno posizionando, aspetta perché scendono i colleghi adesso. Mamma, non ti lasciarmi. Mamma, non ti lasciarmi. Mamma, non ti lasciarmi. Mamma, non ti lasciarmi. Sono così militari. Mamma! Fatti le mani, va. Facciam l'applauso ai colleghi di papà. Allora, vai papa, vai, vai. Applausi, vai. Applausi, vai. Guarda. 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 Portalo dentro Batti le mani Batti le mani Batti le mani